Ecco qua queste note inquietanti, velocissimi però, l'ultima battuta sulla questione profughi, immigrati e accoglienza, cominciamo da Pittoni che non sta nella pelle. Vabbè, sentivo prima Pirone rilanciare il solito messaggio della sinistra che la politica è impotente davanti a un fenomeno epocale, segnalo che le cose non stanno affatto così, ad esempio, rifacendomi un discorso che ho sentito prima sulla differenza fra veri profughi di guerra e persone in cerca di fortuna, ricordo che l'Italia è l'unico paese che ha la cosiddetta protezione umanitaria, che non ha nulla a che vedere con i profughi di guerra e che copre la metà delle persone alle quali siamo obbligati a dare assistenza. è un'iniziativa esclusivamente italiana, su cui il governo nazionale può intervenire in qualsiasi momento e in 15 giorni rendere operativo un decreto che dice che la protezione umanitaria non c'è più. È una richiesta che potrebbe benissimo fare, tra l'altro, proprio il sindaco di Udine, visto che è il sindaco di una città che in percentuale è il comune Cappelluoglio con la percentuale maggiore di immigrati. Prima mi pare che questo l'abbiamo sentito da Bertossi, da lei, poi da Bertossi, poi di nuovo da lei. Abbiamo capito che il problema c'è ed è grosso. Pironi. Non ho mai detto che la politica è impotente, ho detto che è un problema che si rivolge a livelli diversi. Se posso chiudere con una battuta, ringrazio molti cittadini che sono espressi con dignità. Questo credo che sia il sentimento e la parola giusta che caratterizza anche il loro comportamento oppure in una situazione difficile. Di certo, caro Pittoni, questa situazione non si risolve con i video di Salvini. Noi abbiamo l'unico leader nazionale che è venuto qua e si è ripreso davanti alla Cavalzerani. Caro Pittoni, i visitors in questa città non sono graditi. È perché non volete che si faccia sapere cosa c'è lì dentro. Questo è il problema. Non è il nostro. Questo è il problema. Voi dovete solo ringraziare che il prefetto di Udine ha di fatto imposto il coprifuoco a queste persone. I visitors non sono graditi. Le pagliacciate elettorali non sono pagliacciate. Questa gente ha già dimostrato di non volerle gradire. Ha fatto vedere come c'è dentro quella struttura cosa che voi non volevate fare. Vuole affrontare, la gente di Udine, la gente del Friuli vuole affrontare i problemi. Voi volete nasconderlo il problema? Con dignità e rispetto. Volete nasconderlo? Non vi va bene intervenire concretamente? Se no avreste approvato le emozioni che ho portato in consiglio. Non con i selfie e i videotelefoni davanti alla Cavalzerani. L'unico leader nazionale... E dite sempre di no a tutte le iniziative che portiamo in consiglio per intervenire concretamente sul problema. Perché? La città, ti ripeto, affronta, affronta... No, non l'avete mai affrontata. Con dignità e con testa alta. Non con gli slogan. Gallanda, un ramuscello d'olivo, via. Sì, sì, un attimo. Volevo solo dire questo comunque, che si sente molto poco parlare del lavoro a livello internazionale. Cioè, bisognerebbe, secondo me, rafforzare un po' il lavoro alla base e poi accettare solo quelli che hanno diritto. Poi sentivo parlare anche che le procedure di rimpatrio, sembra che debbano andare due persone con una persona profugo al suo paese e tornare a casa con l'aereo. Io non so se siamo a questi livelli, ma sarebbe il caso anche di rivedere queste cose, di trovare il sistema meno oneroso. Lei ha approfondito questo tema? Io ho letto da qualche parte questo. Mi sembra un po' etagerato. È un po' vago, direi. Spero che non sia vero, questo voglio dire. Sì, no, da qualche parte è un po' vago. Sicuramente comunque, allo stesso modo, bisogna trovare dei sistemi meno onerosi di rimpatrio, questo volevo dire. Noi abbiamo la cosiddetta unità Dublino, che è fatta di 4-5 persone, mentre in Germania sono 50, 10 volte tanto, che dovrebbero entro 60 giorni individuare qual è stato il percorso delle persone che ci arrivano dall'Austria. Se noi facciamo in tempo a individuarlo, abbiamo la possibilità di respingere in Austria quasi tutti. Pit, come dicono quelli bravi, voltiamo pagina. Francesco Pezzella è andato a Treviso dal singletico Giovanni, l'avvocato Giovanni Manildo. Perché? Perché Treviso si è costruito un nome e, come dire, un business attorno alle grandi mostre. L'intervista di Pezzella è impeccabile. Parliamo di cose concrete e parliamo anche un po' di futuro, così ci sganciamo un attimo dalla polemica dell'attualità. Sindaco, all'arrivo in città c'è un cartello che annuncia l'arrivo a Treviso, città d'arte. Cosa significa? Treviso ha un suo patrimonio artistico cittadino, ma ha anche arte cosiddetta importata. Sì, Treviso città d'arte, nel senso che Treviso confida molto nel suo patrimonio per attrarre turisti e per far vedere la bellezza della sua città. Abbiamo delle opere importantissime, Tommaso da Modena, abbiamo San Nicolò, San Francesco, delle opere eccezionali. Abbiamo il Museo Bailo, appena restaurato, con le opere di Arturo Martini. Abbiamo a Santa Caterina delle collezioni permanenti molto, molto importanti. Però oltre a questo patrimonio bellissimo di cui siamo molto orgogliosi, abbiamo iniziato una politica culturale per cercare anche di attrarre attraverso le mostre, le grandi mostre, attrarre visitatori anche con delle temporanee molto importanti. Siamo partiti l'anno scorso con la mostra su Esker, che ha avuto un successo veramente al di là di ogni aspettativa, circa 170.000 persone. E da ottobre di quest'anno siamo partiti con varie mostre, con il curatore Marco Goldin di Linea d'Ombra, Storie dell'impressionismo e poi con altre mostre in altri luoghi della città. Perché la nostra ambizione è quella di avere una città d'arte, una città museo diffuso, in cui diversi luoghi parlino tra loro e cercano di attrarre il turista, far vedere la nostra bella città. Bisogna in questo senso affidarsi a dei curatori e a delle persone che ne sappiano d'arte. C'è Sgarbi, per esempio, che collabora con voi per organizzare questo tipo di mostre. Quindi quanto è importante avere a che fare con dei personaggi e con delle strutture che sappiano quello che si va a proporre? È fondamentale la professionalità, quindi la qualità del prodotto proposto è fondamentale per il successo. Devo dire che il professor Sgarbi è stato galeotto come il libro, cioè nell'incontro che abbiamo avuto con Artemisia e Iole Siena l'anno scorso per la mostra di Esker, che adesso è a Milano ed è una delle mostre più visitate anche quest'anno. Quest'anno abbiamo continuato con la mostra di Marco Goldin sul Storie dell'impressionismo, che sta avendo un successo strepitoso. È la mostra più visitata d'Italia e quindi è assolutamente fondamentale avere relazioni con dei curatori professionali all'altezza della sfida. Tutto questo pesa sulle casse comunali e quindi della collettività? C'è un rapporto anche con i privati che permette di ammortizzare il costo che immagino sia abbastanza elevato per eventi di tale importanza e di lunga durata? Noi abbiamo investito molto sulle infrastrutture. Gli investimenti che abbiamo messo come Comune di Treviso sono quelli relativi alle sede museali. Abbiamo investito sul Museo di Santa Caterina, sul Museo Bailo, in modo che i nostri musei potessero essere dei luoghi dove musei stranieri potevano con tutte le garanzie prestare delle opere importanti. Poi l'organizzazione in sede delle mostre è una organizzazione a costo zero da parte del Comune perché è tutto fondato sulla collaborazione pubblico-privato. Abbiamo avuto la fortuna di essere collettori di finanziamenti privati e lo stesso anche i curatori sono stati bravissimi a trovare degli sponsor che sostenessero il rischio di impresa che è molto alto per mostre di questo tipo. Le Priva ha dato qualche numero, qualche cifra del turismo, delle presenze per quanto riguarda le mostre e le esposizioni in percentuale. Quanto pesa questo turismo nell'economia globale turistica della città? Dal 2013, che si è insedata la nuova amministrazione, abbiamo avuto un trend in crescita del turismo. Siamo su una crescita a doppia cifra, quindi circa un più 20% rispetto al nostro arrivo nel 2013. I numeri sono veramente numeri impressionanti perché se pensiamo che in due mesi la mostra di storie dell'impressionismo di Marco Goldina è già oltre le 120 mila persone vuol dire che è la strada giusta per portare sviluppo economico e turismo nella città. Poi tra queste persone bisogna vedere chi arriva in giornata, chi per notta, chi rimane più di qualche giorno, ma devo dire che la media è una media di persone, di turisti che rimangono fermi nella nostra città. Quindi operatori economici contenti per... Sì, c'è sempre il pudore del manifestare la propria contentezza, però devo dire che gli albergatori, gli esercenti hanno più volte sottolineato l'importanza di queste iniziative, quindi la capacità anche attraverso la valorizzazione con le mostre temporanee di portare persone portano anche delle soddisfazioni e qualche entrata in più nelle loro casse. Quindi devo dire che il clima è assolutamente positivo, il clima di tutto il sistema economico treviso. Ecco, direi che il pudore è appunto dichiarare gli incassi più che altro, non per altro. Pirone, ci dice qualcosa di queste iniziative e se può essere in qualche modo anche un pezzo di futuro della città? Senz'altro. Beh, credo insomma che Treviso abbia fatto una scelta di un certo tipo. Ci ha detto, puntiamo su questi grandi eventi, sappiamo qual è il lavoro che fa Goldin, qual è la sua professionalità, la sua bravura con linea d'ombra. Affidiamo quindi a una persona... Goldin è l'organizzatore sostanzialmente. Del suo calibro, del suo livello, l'organizzazione di mostre che portano, in questo caso nella città di Treviso, i grandi autori, insomma, del nostro tempo. È una scelta, significa questo, destinare diverse risorse pubbliche, credo la maggior parte, ad eventi che hanno indubbiamente grande successo, ma che lasciano, come dire, una volta cessati anche possono lasciare il vuoto. Noi abbiamo fatto una scelta di tipo diverso, abbiamo voluto puntare sul rafforzamento dei servizi, abbiamo investito anche risorse, grazie anche ai fondi PISU, sull'infrastruttura museale. Abbiamo rinnovato già, anche nel corso del primo mandato, delle sedi museali, Casa Cavazzini, il Museo Etnografico, il Museo Ecologico, il Museo del Risorgimento, cercando quindi di rafforzare gli assi, diciamo, specifici delle nostre infrastrutture museali e cercando di promuoverli attraverso mostre prodotte con le nostre risorse. Quindi non l'idea di sprovincializzare una città con un grande nome, ma cercando di sprovincializzarla elevando, diciamo, il proprio patrimonio culturale. Il grande nome fa grandi numeri. Il grande nome, è chiaro, adesso noi... E c'è il pudore di dichiarare gli incassi, voglio dire, fa business, insomma. Il 31 marzo inaugureremo questa importante mostra dedicata all'illustrazione della Prima Guerra Mondiale con autori contemporanei che porterà qua i migliori, diciamo, fumettisti della nostra epoca. Ne cito uno, Ugo Pratt, piuttosto che Gio Sacco e Manuel Tardì. Ci sono i disegni di autori come Carrà, come Boccioni, che sono nel nostro patrimonio. Lei mi dice, non sono gli impressionisti. Certo, è vero, però il nostro compito, credo, sia quello di valorizzare la specialità della nostra città. Per Tossi, cos'ha da dire rispetto a lei? Ha fatto questo manifesto sul Messaggero Veneto in cui copre praticamente tutte le attività economiche. In questo caso? Beh, mi dispiace, ma non posso essere assolutamente d'accordo. Noi abbiamo bisogno di incrementare il nostro flusso turistico, il volume d'affari della nostra città, sia dal punto di vista del commercio, dal punto di vista dei pubblici esercizi, dal punto di vista di tutte le attività collaterali, con grandi eventi. Grandi mostre sulla falsariga di quello che non fanno solo a Treviso, ma che fanno a Ferrara da molti anni, un po' in tutte le città. Grandi mostre di grande richiamo, ma soprattutto una regia complessiva, complessiva, con un manager di destinazione che cura la regia non solo di questi grandi eventi, ma anche di tutti gli eventi collaterali, la gestione degli orari, dei pubblici esercizi, del commercio, le giornate di apertura, le giornate di chiusura, in maniera tale la promozione, tutte le attività legate a periodi particolari dell'anno, come quello di Natale, praticamente quello che fa il direttore di un grande centro commerciale. Se noi vogliamo valorizzare il nostro centro storico, la nostra città, con tutte le sue peculiarità positive rispetto ai centri commerciali, dobbiamo però organizzarla in maniera tale che ci sia effettivamente un'idea di sviluppo economico legato all'incoming turistico. Io faccio un esempio, dobbiamo legare, non per spingere il consumismo, ma per rendere le attività di cui è sempre vissuta la città di Udine, dobbiamo legare l'incoming turistico anche alla capacità di stare negli alberghi, di stare nei nostri pubblici esercizi, di andare a fare acquisti nei nostri negozi, perché la città di Udine è sempre vissuta di queste cose e bisogna lavorare su queste cose, altrimenti ha ragione Pitoni che diventiamo un buco vuoto sempre più grande, dove tutto è intorno invece... Con i centri commerciali intorno, un buco con i centri commerciali intorno. Veloce perché poi devo far parlare ancora... Prima, la città è cresciuta da un punto di vista turistico, quindi anche questa strategia ha pagato, tant'è che le statistiche che prima citava anche il sindaco, che tutti conosciamo, lo dimostrano. In secondo luogo, la città vive 365 giorni all'anno, anche di diverse manifestazioni. Vorrei capire qual è l'attività, per esempio, teatrale di Treviso o di altri tipi di attività, cosa che invece noi garantiamo anche grazie al nostro sostegno. Terzo, i grandi eventi mancano? Non sono completamente d'accordo. Pensiamo per esempio a un evento come il Far East, Far East Film Festival, ce l'ha la nostra città Udine, è la capitale del cinema popolare asiatico a livello europeo. Allora, di cosa vogliamo parlare? Tutto è migliorabile. Io penso di essere l'assessore regionale che ha dato il maggior abbrivio al Far East, quindi le sappiamo queste cose. Siamo completamente d'accordo. Però, Pirone, scusa, mia nonna diceva che non basta avere ragione, bisogna che gli altri te la diano. Basta girare per la città e vedere se la gente, gli operatori commerciali, i titolari degli alberghi, i pubblici esercizi hanno sentito questo grande incoming turismo. Chiudiamo questa... Gli ultimi dati, credo che per rafforzare il ruolo di Udine città turistica, oltre a quello che diceva Bertossi, trovo delle riflessioni intelligenti, però mancano due condizioni. Uno, il tema del come si arriva alla città. Oggi Udine è comunque, e tutta la regione, c'è l'imbutto di mestre, per esempio, del trasporto ferroviario o dell'aeroporto. Altra questione, la ricettività. Quant'è la capacità ricettiva? In parlo di presenze, diciamo, numeri alberghieri, anche della nostra città. C'è poi un negozio turistico? Un souvenir nella città? Un turista lo può trovare? Sono altri tempi. Bene, sto prendendo nota perché saranno trasmissioni che andremo a fare e a cercare di capire anche queste... Potrei aggiungere... Io volevo dargliela dopo la parola, però se è velocissimo, ma non credo, di solito non è così. Io no, sono telegrafico anche in consiglio. Volevo chiedere a Pirone, come mai questa, come l'amministrazione precedente, non hanno mai voluto investire sulle origini della vera storia di Giulietta Romeo, che trae origine, come è noto appunto, da una vicenda avvenuta in Friuli, in particolare proprio a Udine. Ma non credo, come ti ho già risposto più volte, non credo che un investimento di questo tipo sarebbe, riuscirebbe ad essere efficace. Tu sai che... Bertossi, lei che di business... No, non mi pare convinto. No, ma c'è un tema di cui parlavo qualche giorno fa con una persona esperta di questo, un grande tema è quello dei matrimoni nelle dimore storiche che si fanno nel nostro Friuli. Allora, perché Udine non riesce ad essere il baricentro di questa operazione? Perfetto, perfetto. Galanda, adesso veramente veloce. Sì, volevo solo dire questo comunque, che l'amministrazione ha fatto dei passi sulla cultura, d'accordo. Quello che vorrei sottolineare però che ne abbiamo parlato anche con un'interrogazione è che le condizioni devono anche essere sostenibili. Mi spiego, non si può affittare dei beni come il Palamostre per 20.000 euro all'anno per poi pagare 230.000 fra contributi, pulizie, riscaldamento, rifiuti e quant'altro. Poi si può anche fare, ma bisognerebbe capire dopo i costi della ditta, dell'associazione a cui si è dato vedere se c'è una linearità, perché bisognerebbe che fosse una logica, perché il Comune non può sempre perderci, in questo senso volevo dire. Vabbè, credo che anche Pirone sia d'accordo sul fatto che il Comune non può perderci assolutamente. No, perderci intendo non troppo. Il discorso che facciamo... Non troppo deve essere una cosa omogenea, non che uno ci guadagna troppo, il Comune ci perde troppo. Siamo in chiusura, è una questione estetica. Massimo Rizzi è un fotografo, non la faccio corta, c'è un'intervista che ho colto rispetto alle sue due mostre che parlano di Udine in crisi anche proprio ad un primo colpo d'occhio, poi la riflessione è più articolata. Massimo Rizzi è un fotografo freelance udinese che vuole bene la sua città, che descrive in questo modo Udine è una bella città di provincia dove si vive sostanzialmente bene, soprattutto tranquilli, ma mi sembra che un'atmosfera di assenza vuoto e incuria stia intaccando l'identità fatta di vigore, rispetto e cura che ci è stata trasmessa da chi ci ha preceduto. Quindi ha preso la macchina fotografica e si è cimentato con questa Udine che inquieta un poco, o no? Certo è che, essendo udinese, dalla nascita non mi era capitato in passato di vedere la città così come la vedo ora. Certo è che le città si trasformano nel tempo, come tutto, però, iniziando un progetto che all'inizio voleva rapportarsi con i segni della crisi, nel mentre è diventato, questo progetto è diventato qualcosa più attento a quelli che sono dei segni, dei segni, che non vuol dire che questa è la città, come molti dicono, o mi rimproverano di dire, insomma, dei segni che hanno un carattere di novità. E questo, secondo me, dovrebbe, perché il condizionale è d'obbligo, essere di interesse per la nostra società, per la nostra comunità. Benissimo, due le sfide. La prima si chiama Udine, barra appunti sulla crisi, la seconda Small Town Blues, che tradurremmo malinconie di una piccola città, sostanzialmente. Sì, è corretto. Ecco, come ha trovato questi luoghi e che tipo di sensazione le hanno dato? Ecco, per fare questo lavoro che, appunto, ho voluto chiamare Small Town Blues, per evocare un lamento, perché, appunto, ciò che ho visto mi ha fatto sottolineare questo aspetto, voglio dire, insieme, ho notato, ovviamente, altre cose, ma questo mi ha colpito e questo progetto è stato anticipato da una piccola mostra che mi ha servita a mettere a fuoco il problema. Perché? Perché chi si occupa di fotografia sa che individuare un tema e svolgerlo in maniera omogenea è cosa complessa. Ora queste immagini che vedete sono delle immagini che potrebbero rappresentare l'inizio di una ricerca, che comunque io, voglio dire, già vorrei chiudere con una mostra, se possibile. Serve mica uno sponsor? Sarebbe cosa gradita, perché tutti i lavori che ho fatto anche, soprattutto su temi sociali, ho dovuto supportarli io negli anni, no? e purtroppo l'incidenza di questi lavori, che sono fatti questo, ad esempio, fatto su pellicola, ha richiesto diversi mesi, al momento non hanno avuto l'interesse. Ecco, quindi facciamo anche questo appello. Un'altra considerazione che lei ha fatto dopo aver visto con i suoi occhi e con la sua macchina fotografica Udine è quella di dire che i nostri concittadini sostanzialmente non vogliono vedere questa città, in qualche modo rimuovono questo tipo di approccio e restano sul suggestivo, sul classico sostanzialmente. Beh, diciamo che questo non è corretto, nel senso che io dico questo, ci sono due componenti, probabilmente, una è quella che riguarda la fotografia, di cosa venga intesa nell'oggi la fotografia e prevalentemente ha un connotato puramente evasivo. La seconda cosa, per quanto riguarda i cittadini, forse non si pone, perché io credo, e anche conoscendo gli udinesi, che queste cose siano di interesse comune, molto sentite. Probabilmente, diciamo pure, che non ci sono gli spazi e le occasioni per discuterne, perché se noi guardiamo la produzione fotografica che riguarda la rappresentazione della nostra città, io ad esempio non ho memoria negli ultimi vent'anni, ci saranno senz'altro stati, per carità, e mi scuso se non me lo ricordo, ma non ho memoria di rappresentazioni della città che vogliano osservare lo stato delle cose, cioè lasciando perdere la celebrazione della bellezza che va benissimo. Come voleva si dimostrare. Appunto, mi pareva che c'era questo dualismo tra la celebrazione e la bellezza e appunto una serie di fotografie di questo tipo. Pirone, velocemente, questo... sulle foto in generale, ma guardi, ripeto, noi non è che nascondiamo quelli che sono i limiti, quelli che sono i problemi, non è nel nostro interesse, affrontarli con realismo cercando però di individuare delle soluzioni. Dico anche una cosa, ci sono... fotografate erano sia repubbliche che private, quindi là per fortuna almeno il comune non c'entra. la città la stanno raccontando anche diversi giovani con altri mezzi o con altre forme, per esempio in questi anni riprendendo un tema di prima, il cinema per esempio è cresciuto molto, vent'anni fa il cinema non c'era qua o era molto più ridotto, invece abbiamo avuto delle esplosioni, dei successi... Come il governatore della campagna De Luca al cinema qui, l'ho portato io? No, non ho detto assolutamente questo, non mi paragonerei a De Luca, dico che comunque le modalità anche di racconto, di espressione si sono indirizzate verso altri settori, facendo anche, mettendo in crisi più alcune diciamo consuetudini e aprendo spazi prima inspiegabili. Il cinema, voglio citare il cinema che gode di un ottimo stato di salute, insomma anche la nostra... Bene, bene. Bertossi, un commento oppure andiamo a chiudere veramente e le chiedo questa cosa trampiana del suo hashtag, prima Udine. Prima Udine perché devono venire... Non slogan, un patto. Prima, no, perché semplicemente perché votando insieme a Regione, Comune, il Comune di Udine e alla Camera dei Deputati e al Senato dobbiamo parlare prima di Udine e poi di tutto il resto. Sarà un altro manifesto prima Udine. volevo dire una cosa sulle foto. Ci stiamo abituando a non accorgerci di queste cose quando camminiamo per la strada. Cioè solo guardando le foto ci rendiamo conto di alcune zone dove c'è insomma qualche problema, le scritte sui muri, eccetera. Questo è un campanello d'allarme perché vuol dire che gli Udinesi, noi compresi, ci stiamo su e fando a un qualche cosa che non fa parte proprio della tradizione della nostra città. Pitoni. Sono immagini simboliche di una città che muore. Muore perché la famiglia non è supportata, non si fanno bambini, mentre non si sa per quale motivo si promuove in tutte le maniere possibili a partire dai finanziamenti l'immigrazione. Così, Lapidario. C'è un epigrafe stranciante. Galanda, non le faccio una domanda. Quando si fanno le tribune elettorali di solito alla fine per parare colpi maldestri si dice se ha qualcosa da dire rispetto alla trasmissione lo dica subito o taccia per sempre. Com'è andata questa trasmissione? No, no, è andata bene. Bene. Allora, con questo commento della consigliera Movimento 5 Stelle Galanda ringrazio i nostri ospiti, ringrazio chi ha avuto la bontà di seguirci. Vi do appuntamento alla prossima settimana, parleremo di cose altrettanto o forse più interessanti. Grazie, arrivederci. Grazie,